Non si può girare così Non si può girare, non si può girare Non si può girare Non si può girare Non si può girare Qua ci sono i granelli di insecti Qua ci sono i migliori Qua ci sono i migliori O l'abbiamo un minicordino vecchissimo delicato in alcuni movimenti bubba 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 Sì. In realtà anche così la gestisce abbastanza bene, però magari ti va la corda sulla mano e se fai una calata della madonna ti brucia un po'. Quindi buo così. E alla fine è la stessa cosa se il calato...